I carabinieri della stazione di Guagnano in mattinata hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un trentenne di Campi Salentina, titolare di un'azienda agricola, per il reato di ricettazione. L'uomo aveva già precedenti specifici e dopo un'ispezione dei locali dell'azienda agricola a Campi e in un garage, i carabinieri hanno trovato un quad marca Kawasaki 125, un motore elettrico da piscina, dei faretti da giardino. Il tutto è risultato essere stato asportato da una villa di Guagnano il 9 novembre scorso. L'area furtiva è stata poi restituita a legittimo proprietario. Hanno svaliggiato una tabaccheria in piazza Regina Margherita a Trepuzzi e sono fuggiti con circa 4.000 euro tra sigarette, gratte e vinci. I ladri sono entrati in azione nella notte nel centro del paese e sono fuggiti indisturbati. Hanno scassinato l'ingresso e in pochi minuti hanno portato via quanto hanno potuto. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Due ragazzi fuggiti poi a bordo di uno scooter hanno tentato di mettere a segno un furto in un deposito giudiziario sulla strada che da Lecce conduce a Novoli. Intorno alle 22.30 di ieri i due sono stati notati mentre tentavano di scavalcare il muro di cinta del deposito ma sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Alcuni dipendenti in servizio di vigilanza li hanno messi in fuga tentando anche un inseguimento. L'episodio è stato poi denunciato alla polizia. Indagini in corso per stabilire il movente di un attentato incendiario sventato da un passante accaduto a Calimera in via Galilei. Nella notte qualcuno ha tentato di dar fuoco ad una scenica di proprietà di un agente immobiliare. È stato un vicino ad accorgersi del fuoco e a chiamare subito i soccorsi. L'incendio è stato spento prima che potesse causare danni al mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che oltre ad aver trovato le gomme intrise di benzina hanno sequestrato nelle vicinanze alcune bottigliette con del liquido infiammabile. Si è costituito l'ultimo ricercato coinvolto nell'operazione dei carabinieri Dout Des. Si tratta di Francesco Francavilla, 35 anni, di Cellino San Marco. Il terremoto giudiziario che risale lo scorso 10 aprile ha portato a 14 arresti. A finire in manette l'ex sindaco di Cellino, Cascione, i suoi assessori funzionari e imprenditori. L'operazione ha raggiunto anche Lecce con l'ordinanza di custodia cautelare per gli imprenditori Tommaso Ricchiuto, titolare dell'Aigeco, Bruno Alfredo Bruno di Calimera, geometra dell'Aigeco e Antonio Vincenzo Fasiello di Struda, dipendente del genio civile. I reati contestati sono contro la pubblica amministrazione, associazione per delinquere, peculato, corruzione e turbata, libertà degli incanti e calunnia. Secondo gli inquirenti, l'ex sindaco era capo di un'organizzazione criminale che pilotava sistematicamente gli appalti e i concorsi comunali in cambio di tangenti.